Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Antonella Elia, Torino, 1 novembre 1963, è un'attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana. 1. Negli anni 90, si è fatta conoscere dal grande pubblico co-conducendo programmi di grande seguito come la Corrida, Dilettanti allo sbaraglio, Nonella Rai, Pressing, e la Ruota della Fortuna. Dagli anni 2000 partecipa spesso a reality show quali l'Isola dei Famosi, di cui vince l'edizione del 2012, Pechino Express, Grande Fratello Vip e Temptation Island. Rumors intorno alla notizia che Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono in procinto di convolare a nozze. Sono sempre più insistenti. Ad averne parlato per la prima volta? Fu proprio il compagno, il quale lo scorso anno ammise, certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito, o al massimo entro l'anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all'altare e non scappi. Lo sfogo di Antonella Elia convivere con un tipo vulcanico, come Antonella Elia non deve essere proprio semplice. Dalle piccole cose all'interno di una relazione, che si vedono le differenze. Lo sa bene Pietro Delle Piane che la scorsa sera si è trovato al centro di uno sfogo della fidanzata. Che non voleva assolutamente restare a casa. Nonostante il tempo fosse bruttissimo a Roma. Sei già in pigiama. Io voglio andare al concertone a sentire MR Rain. Non è vita. Mi tieni sempre in casa. Passi la vita a cucinare. Io sono stufa. Che barba che noia. Che noia che barba. Voglio andare al concertone. Abbiamo. Abbiamo. Grazie a tutti.